Bene, io chiedo a lui qual'è l'impegno dell'astro, quale può essere, ovviamente, invece, ma anche della sanità. Grazie. Innanzitutto un saluto a Cristiana e buona condizione, che so che è rimasto accaduto da essere qui in questa ritengo importante giornata, perché certamente è ovviamente importante per farsi sentire e sicuramente per procedere su un percorso che vorrebbe cerchiare da diversi anni, e quindi, fortunatamente, non ho malta rosso, è andata da l'altro. Quali sono le problematiche? Fortunato ricorderà che pochi anni fa sono state emanate le sindi di vita, e noi, vediamo che siamo molto bravi, le sindi di vita era appunto l'applicativo delle direttive europee, e in queste sindi di vita c'era scritto di tutto e di più, praticamente quello che lui ha esplicitato, che aveva dichiarato anche approfondito, perché c'erano anche delle disangere scientifiche, perché dietro queste patologie, non sono solamente le patologie che ha citato, c'è, purtroppo, da un lato c'è un problema di scientifico, cioè non c'è il riconoscimento scientifico, ma dove non c'è il riconoscimento scientifico, inizia lo scientifico. da un lato, la curiosità, se vogliamo essere più propositivi, oppure l'approfondimento, se vogliamo essere ancora più vicini a quella di determinare la problematica che noi vogliamo affrontare. In questo caso l'Ard ha inteso avviare un approfondimento, ma principalmente proprio l'esottica della vicinanza con tutte le associazioni del territorio, e vi dico che CivitaLette sia una, e qui, che dico più CivitaLette che questa è la, una delle popolazioni più associate e più propositive che io abbia mai conosciuto, cioè, che non manca il giorno che c'è, un'associazione che pronuncia e propone, e attraverso i miei miei dei progetti, delle, diciamo, delle soluzioni che poi parlo a finali con, anche la disabilità, anche il problema suicidico, ci sono veramente delle vecchiezze infinite di soffertorio umano. Allora, queste patologie, le mie miei dei progetti, cioè, praticamente, se uno ha dei geni, quindi non ci viene da fare, cioè, lei non sarebbe qua, poi sarebbe patroia a verificare l'andamento di questi geni. E, i nostri geni ci sarebbero trovati, ma lei è un problema, perché credo che quando leggiamo le cose e loro i dati sono specificati chiaramente, uno dei geni più principali è la darietà. Qualche anno fa l'autismo è andata, ancora oggi lo è, è un numero impressionante, per esempio, però ancora oggi ci sono delle terapie che non vengo a riconosciute perché ancora è desiniturata. E posso dire una tutta, vedete, che è così più comportamentale, dicendo che si hanno solo se c'è una sentenza. E già, pensate, un passo ulteriore è enorme di contatto, perché se non ci fossero state le linee di riconoscimento del Estituto Superiore, perché se non ci fossero state le linee di riconoscimento e la vita cambia, diciamo, io sto parlando con una persona che a voler approfondire vuole riconoscere la parola di Cinesi. E le limitazioni funzionali a loro sono enormi. Ci sono persone che, affette da queste culturali, diciamo, riducono di molto la loro attività, la loro attività, quasi la loro attività, perché c'è un superi tempi, ma è come diceva Loli Pagliu. Effettivamente si riduce alla socialità, perché se io non posso entrare in un ambiente, dove ci sono problematiche odori profumi e deodoranti, tutto che avvertiamo che il profumo è chimico, pure nelle cose naturali c'è la chimica, l'oio, la Roma naturale, c'è un tanto in verità, bisogna portare i loro confluse. Però è tutto timico, e non ancora c'è la chimica autonomicamente. C'è questa percezione, questa problematica che può stabilire in... la prima cosa è che la cittura di Cinesi. E ricordate che è un caso pazzesco, problematico, che porta addirittura la spesa di ingenti quantità di soldi e di analisi che effettivamente c'è da rifare tutto quello che finora un tempo fa che era andato a me, perché naturalmente poi ci sono delle sostanze, non voglio dire che in termini se non avevo l'attività di grande questa storia. Era giusto la domanda di grande che si chiama, però naturalmente in alcuni casi da dove viene accettato un altro intento o l'altro sarà saputo o la sensibilità in minima quella di ottenere la sostanza, che forse il piombo può essere altro, ci sono un giorno di che serve. da l'altra parte però cari Presidente e doni, poi ci sono in vivo, oggi in pronto sopposto faremo una sala da Apex Free o comunque attività per accesso con personale dedicato che non si trucca o comunque che si strucca che ha nell'allenare con quello che è naturale, guarda, perché siamo tutte persone che stanno con il piede da terra, ci rendiamo un'altra con questa è impossibile, è difficile, non è in casa che solamente il politico ha un centro di attività visita, però c'è stata una grande difficoltà perché questo presuppone un cambiamento io direi immaginare se ne fosse avuto o due per regione uno cittadino e uno provinciale potrebbe essere già un grande risponopasso questo potrebbe essere il secondo aspetto bisogna sensibilizzare verso la fondazione perché io ho accettato con la serenità della chiesa spesso dall'associazione mandata insieme a Silvio con Paglia perché insieme a noi si può avviare un progetto e l'altro è una cucinare e noi non siamo del tutto scelti molti di noi non sono del tutto per niente naturalmente c'è chi vuole approfondire e ci rimane a lei ricavate il sociabilismo perché non dimentichiamo che fino a quando ci sono dei loro scelti e lei che diciamo le specie intenzionali parte solamente quando tu è libre il nostro bestia si è libre di quanta di te io per adesso non accetto questo però noi possiamo fare questo quindi abbiamo detto di individuare se non già individuare un'ambulatorio dobbiamo beneficiare insieme alla associazione in maniera che verifichiamo l'utilizzo e principalmente verifichiamo pure quali sono le accortezze delle condizioni perché il sambulatore si può utilizzare con un'ambulatorio che è anche con un'ambulatorio che è il sbordello per coloro rimossano diciamo questo è il problema che comunque voglio magari maggiore di questa è bene per adesso naturalmente e io io lavorino per ripeto il massimo portale a un risultato ho citato l'autismo che subito lo spettor che si non ha chiaro perché è stato proprio il tempo che aveva dato questo ciclo di diritto quindi sta cambiando e credo che naturalmente perché se parliamo dai numeri i numeri di certi migliari sono andati negli luoghi con giustizie che avevano un po di sanitaria questo torino i numeri di certi migliari di numeri conosciuti oppure che ci possono essere mi viene in mente dottoressa un dirigente medico della politica no della ministra della sanitaria che attrava nell'incidenza e prima nessuno lo riconosce ecco e la scuola è 50 200 c'è di giornale i medici naturalmente hanno fatto di tutto di più e ciò è stata visionata vista come una persona indollerata da determinare di quindi la diarita c'è come si fa in caso diciamo che allergico all'incidenza c'è allergico a questo al c'è un altro sintomo eccetera eccetera ma naturalmente non gente in un basso di c'è e quindi sappiamo benissimo da conosco ben che abbiamo chiede quanti problematiche ci sono perché poi naturalmente se non credono che lavorava la tira tu c'è il quinto malagio per il lavoro un soggetto da diciamo verso cui tutta la riscita per i problemi perché dove là vede c'è profonda la polizia è la strada troppo e qui c'è troppo come spiegare sono quelle cose che nella nostra diciamo modo di comunicare sono difficilmente certe quindi e dentro della strada giusta che questo io ringrazio perché secondo me le istituzioni hanno un onorevole anche i posti del risultamento dalle problematiche economiche dalle generazioni per uscire è un commissariamento e deve risparmiare 600 milioni è un lavoro di nozze e qui in sala so che ci sono persone che hanno distruito stanza politica associazioni importanti è un lavoro no è una scommessa da qui dobbiamo uscire perché solamente recuperando questa dignità non vogliono fare questo rimancio e vi posso assicurare che in questo anno c'è stata una ripresa irmonogica di quella che era il 10 regionale di una febrica quindi c'è è un momento tipo è naturalmente che questo è stato voluto vuol dire che se la dottoressa o la selezione oggi dicevo che ho una stanza di gatti con le persone grandi magari però dovremmo trovare un magnate o un decennate che ci regala tutto e ci dà pure il personale che non si lucchia che pure che si lucchia e si stucchia perché è una stanza che non dite con le sostanze particolari naturali eccetera questo è un po' il momento non può restare però quello che possiamo fare è fare un'astrenzione quindi se lo fa un'astrenzione è importante è un po' che la identità ci riesce e quindi le associazioni sene devono avere la massima attenzibilità dell'esercizio questo è la associazione abbiamo questo nostro sottello e effettivamente cerchiamo di avviare un percorso di formazione per il quello che ci fosse perché è lì che si svolge nel primo contatto e comunque sapere già di cosa spontaneità oppure avere una specie di adesso l'associazione di card che il paziente ti avvisa e ti dice guarda io ho questo quindi stanno studiandoci questo questo può risolvere altri problemi che può aiutare quantomeno a lungare tempo a non avere quell'impatto con una persona di modo direttivistico che poi porta naturalmente alla vita scontenzosa o poi quando meno alla speciale del nostro materiale è che se quello che mi prendo non lo faccio nel formato appiccate al suo tempo cioè io credo sempre che il mio prodotto quindi la politica di piccoli passi sperando che la visione forse alla stessa di riconoscimento e poi io ho pensato che nel prossimo futuro potrebbe succedere so che c'è un tavolo che è iniziato a valutare le problematiche quindi avevamo conveni importanti sull'attività per le salate al cerfette che non lascia da voi perché mi sembra un fortuna iniziato questo percorso che si 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 ha lavorato con quella prima sette di manco quindi riveliamoci e la parliamoci per questo futuro grazie Grazie.